benvenuti in questa nuova puntata di level up ho finalmente aperto un locale ebbene sì il mio locale abbiamo inaugurato pochi giorni fa è andato molto bene stiamo lavorando e solo ora mi accorgo di intanto di che errore madornale stavo per commettere diversi anni fa e di quanto poi una volta che sei lì e ce l'hai di quanto in realtà sia complesso gestirlo nel migliore dei modi e soprattutto solo adesso mi sono reso conto di che errore madornale commettono i tantissimi ragazzi tantissimi ragazzi tantissimi tantissimi ragazzi che vengono a fare il corso alla mixology academy con l'idea già di aprirsi il locale non fra tre quattro cinque sei sette otto anni tra tre settimane fra un mese dal corso da un coro dopo aver fatto un corso per partire ora perché stavo commettendo un errore madornale perché io ero proprio quella persona ero proprio quel ragazzo che si è iscritto al corso al corso da barman e ha iniziato a fare tutto questo percorso per due motivi uno volevo viaggiare infatti venivo da un viaggio in sud america mi sono trasferito a roma per fare il corso quindi volevo viaggiare aprirmi un mio locale ora viaggiare l'ho fatto non comporta rischi anzi hai solo a parte vabbè mi hanno rapinato un paio di volte ma cose che capitano lungo il percorso quindi a parte piccoli dettaglietti il viaggiare c'ha solo un grande problema cioè ti apre la mente ok che vedilo tu se è un problema non è un problema per molti potrebbe esserlo però viaggiare non credo che abbia qualche difetto in sé ti permette di conoscere persone nuove ti permette di uscire dalla comfort zone ti permette di incontrare vite diverse di parlare con persone che la pensano in un modo diverso da te di conoscere culture nuove ok e di scoprire tantissimo anche di te stesso quindi viaggiare l'ho fatto mi piacerebbe poi continuare a farlo e subito dopo ovviamente ho detto vabbè mi apro il locale tac mi apro il locale se ripenso se ripenso al giorno in cui stavo per aprirlo e attenzione non sto dicendo stavo per aprirlo perché avevo l'idea no no ero proprio andato a fare l'offerta commerciale insieme al mio socio angelo pinelli per prendere un locale e questo accadeva circa cinque anni fa e cinque anni fa io stavo per aprirlo un locale competenze zero competenze oltre a quelle da bar da barman ovviamente intendo zero cioè non avevo nessuna competenza di marketing non avevo nessuna competenza imprenditoriale non sapevo gestire le situazioni anche no affrontare i problemi affrontare le situazioni nuove che ti capitano lungo il percorso non ne ero in grado non avevo studiato comunicazione non sapevo niente sulla vendita e stavo per aprire un locale ora se riguardo indietro io mi ritengo estremamente fortunato 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 perché non l'ho aperto e non l'ho aperto non perché ho avuto una mi sono svegliato di notte non aprire no non è andata così ma mi è stato consigliato mi è stato consigliato più e più volte da quella che poi sarà sarebbe diventata una delle mie guide che è il fondatore luca malizia di mixology uno dei due fondatori e luca malizia e avendo già fatto come se lo segui probabilmente lo saprai avendo già fatto quell'errore avendo già fatto la stessa strada è riuscito a indirizzarci ed è riuscito a farci comprendere che non era il momento giusto ora noi in quel caso lì siamo stati bravi semplicemente ad ascoltarlo a fidarci e abbiamo fatto non bene di più perché probabilmente oggi avremmo un sacco di debiti un sacco di problemi dovuti a quella apertura e l'abbiamo ascoltato e siamo riusciti a salvarci grazie a una guida se hai guardato probabilmente il video precedente saprai che o i video precedenti saprai che ti parlo spesso di questo concetto no trova una guida trova una persona di cui ti fidi e che ritieni una guida per una guida che può aiutarti per sviluppare la tua carriera e seguila seguila non è che poi ogni cosa che ti dice è ma è mi è mo ecco e ripensando a quel momento quindi mi sono detto cazzo per fortuna che non l'ho fatto e poi ho iniziato a pensare invece a quanti ragazzi continuano ancora oggi a venire in accademia volendo aprirsi un locale ora e da da quel momento poi è diventato anche un po' il mio scopo quello di cercare di aiutare i ragazzi e fargli comprendere e quanto quanto possano quanto può ingannarli no questa visione limitata cioè del pensare che sapendo fare 3 4 5 10 20 drink 30 e possa anche poi gestire un locale è utopico come come concetto ma purtroppo oggi tantissimi aprono locali in questa maniera tantissimi gestiscono i locali e non sanno nulla e tantissimi chiudono infatti ci sono un sacco di problemi ci sono i bar stanno tutti messi malissimo e non 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 ti fidare di chi dice che c'è della bolletta della luce elettricità perché io capisco un bar che si è mai aperto adesso e si trova la bolletta subito prima staggata ma un bar che c'è da 20 anni e sono 20 anni che tu mandi avanti un bar se dopo le bollette alte ci sono da tre mesi ecco cioè dopo 20 anni la prima bolletta alta che ti arriva fallisci cioè vuol dire che c'è stata una gestione una mal gestione o presente non c'è stata gestione dei soldi e imprenditoriale che è il concetto che c'è in italia di aprire un'attività è mi apro il locale con stare dentro dietro bancone io a fare i caffè o io a fare i drink ora io ho aperto un locale e dietro bancone non ci sono mai salito perché perché fortunatamente ho uno staff anzi mi hanno insegnato e ho messo in pratica questa cosa ovvero avere dei dipendenti avere dei collaboratori avere uno staff pronto che ti possa dare una mano a fornire il servizio che vuoi fornire mentre tu hai a disposizione il tempo per per esempio fare questi video per esempio studiare come migliorare la situazione ora se io avessi aperto il bar cinque anni fa probabilmente sarei là dietro bancone a fare i drink e non avrei nemmeno il tempo di aggiornarmi di comprendere come migliorare come come si studiare capire cioè il ruolo dell'imprenditore no risolvere problemi cercare con cercare il modo di far andare meglio l'attività e e questo è un po il problema che c'è in tantissimi ragazzi che fanno questo si iscrivono a questo percorso pensando che saper fare i drink sia una competenza dell'imprenditore ora saper fare i drink non è una competenza dell'imprenditore o meglio sì se sai anche fare i drink è una roba in più ma non ti serve in nessun modo per gestire un locale perché se tu lo gestisci nel migliore dei modi sai che ci avrai una persona di riferimento che controllerà chi fa i drink ok quindi quello che è diventato un po anche il mio scopo è cercare di far capire ai ragazzi che non è questo il momento adatto con le competenze che hanno ora non è il momento adatto per aprire un locale e mi è diventato tutto molto più chiaro aprendolo un locale e ovviamente l'ho aperto con una con una comprensione molto diversa l'ho aperto con una comprensione anche con delle competenze diverse perché oggi se sento nominare marketing so di cosa si tratta se sento nominare vendita so di cosa si tratta gestione so di cosa si tratta e quindi ho delle competenze molto lontane da quelle che avevo cinque anni fa sei anni fa come ce l'ha il mio socio angelo pinelli ok anche lui stava aprendo il bar con la stessa mentalità cioè con quella di dire ok dietro banco sono molto bravo e quindi se apro il locale sicuramente verranno un sacco di persone ecco questa è una concezione estremamente sbagliata per non dire che poi c'è tantissimi aprono il bar senza neanche essere molto bravi a fare i drink cioè si mettono dietro banco facendo pure i drink de merda e non avendo nemmeno quella competenza cioè neanche quella e quindi è ancora più folle come come concetto e quindi ti stavo dicendo mi sono reso conto ancora di più aprendo un bar di quanto sia complesso gestire un bar ora a noi al momento ci sta andando molto bene ma non è casuale non è casuale perché perché sono anni che ci lavoriamo e sono anni che abbiamo cercato di arrivare una volta compreso che non era il momento di aprire il locale di arrivare a questo punto facendo una scalata facendo una scalata e chiedendoci con le domande cosa ci serve per arrivare ad aprire un locale ci servono delle persone intanto che ci seguono ci servono creare la nostra community creare delle persone che creare un legame con le persone no la nostra lista clienti se hai seguito anche un po' barman pr bar wars o luca te ne parla spesso e lo abbiamo fatto iniziando a testare a costo zero creandoci un piccolo brand nostro che nel tempo siamo riusciti a far crescere e iniziando a fare eventi quello che spieghiamo anche in bar seller e in barman pr no ok vuoi arrivare ad aprirti un locale come posso fare nel frattempo per imparare tutte quelle competenze che poi un giorno mi serviranno per aprire il locale inizio a fare eventi pensi che se apri il locale vengono un sacco di persone testalo come lavori in un locale il martedì il mercoledì il giovedì crei il tuo evento e vedi ok faccio il mio evento faccio io il menu gestisco io la serata invito le persone vedo realmente quante persone iniziano a seguirmi e se mai al proprietario mi metto d'accordo mi faccio pagare in percentuale sul profitto della serata oppure mi faccio pagare di più perché sono io che ti sto portando persone ti sto creando il menu della serata gestisco io tutto quanto e quindi inizia inizia ad essere per te un grande stimolo no per crescere e anche uno stimolo perché ti permette di guadagnare di più io dico spessissimo ai ragazzi e perché tantissimi vengono a dire ma mi paga poco è ma sono di qua è ma di qua è ma di là ma la domanda è tu cosa stai facendo per farti pagare di più perché ok spesso e volentieri in italia gli stipendi sono più bassi della media ma il modo di aumentare lo stipendio c'è iniziando a fare 20 e iniziando a imparare delle competenze che vanno oltre il bar ok delle competenze di marketing delle competenze di comunicazione e di customer experience cioè di gestione dei clienti accoglienza servizio quindi tutte quelle competenze che poi potrai mettere in pratica una volta che avrai il tuo locale ecco noi abbiamo fatto la stessa identica cosa e in questi 3-4 anni abbiamo iniziato a fare eventi in giro per roma abbiamo iniziato a farci conoscere abbiamo iniziato a creare un giro di persone che stavano bene no frequentando le nostre serate ora quindi abbiamo aperto il locale con una già una buona base avevamo già abbiamo già una nostra lista di clienti e quindi abbiamo mi immagino oggi chi apre così alla Carlona senza avere nulla senza sapere nulla di nulla ok pensando che quei 10-15 amici più i familiari bastino no per fare e mandare avanti un'attività ecco purtroppo non è così la cosa però molto bella è che Mixology Academy quello che offre in più rispetto a tutte le altre accademie è un servizio che dura nel tempo ovvero i ragazzi chiunque entra a Mixology Academy come quando ho fatto il corso io non vengono mai lasciati da soli e questo credo che sia una cosa bellissima questo rapporto che dura nel tempo anche già solo con questi video anche già solo con le tutor che ti chiamano ti chiedono come stai come sta andando il corso e ovviamente non ti possiamo seguire come dei guardoni dietro al cespuglio no quelli di Mixology Academy che ti seguono serve anche da parte tua un piccolo passettino cioè serve il voler rimanere in contatto e con già solo con i canali social con tutto quello che facciamo il canale youtube i corsi master di aggiornamento ed è una cosa molto figa perché in qualsiasi momento puoi scrivere chiedere un consiglio a un trainer a una tutor e risolvere un dubbio o chiarire qual è il giusto percorso di crescita che devi mettere in pratica e questa sicuramente è la marcia in più della Mixology Academy che oggi anche oggi non oggi poco tempo fa però ha lanciato anche il suo nuovo percorso che è la Bar University che ha proprio questo intento cioè l'intento di seguire un ragazzo per più anni proprio per dire ok ti seguiamo da quando fai il corso base fino a fino a che non arrivi pronto con le competenze imprenditoriali giuste per se mai avviare un'attività tua e questa è una cosa veramente molto bella quando feci io l'accademia non c'era altrimenti l'avrei fatta sicuramente al 100% perché sicuramente mi avrebbe permesso di imparare tutte le competenze che ho preso in questi anni in un tempo molto minore e se mai mi avrebbe permesso anche di evitare di fare un sacco di cavolate che comunque se le fai con la giusta testa ovvero con la consapevolezza di capire dove stai sbagliando come migliorare vanno benissimo sono fondamentali è fondamentale sbagliare fondamentale fare delle cavolate se servono o no per farti comprendere un tassello in più un passaggio in più quindi tutto questo per dirti che intanto per invitarti se sei di Roma da triplo nel nostro nuovo cocktail bar e per dirti che uno dei segreti del successo se te lo sto per dire però non è più un segreto quindi o un segreto o non è un segreto quindi una delle basi del successo non è più un segreto perché te lo sto dicendo una delle basi del successo è la pazienza e tantissimi di quelli che aprono i locali non hanno pazienza non hanno pazienza perché lo vogliono subito vogliono aprirlo subito vogliono accelerare i tempi non si può accelerare i tempi questa cosa qui è follia è un meccanismo un po' malato della nostra mente che ci porta ad avere fretta di fare le cose ecco non si può non si può accelerare nulla bisogna fare i giusti passi un gradino alla volta devi fissarti in testa che ci vuole tanta pazienza ci vuole tanta pazienza e che non vuol dire star lì ad aspettare così che cada qualcosa dal cielo e magicamente diventi Iron Man ma significa mettersi lì e fare un piccolo passetto ogni giorno un piccolo passetto ogni giorno che ti permetterà poi di arrivare a dove vuoi arrivare e questo dentro la Mixology Academy lo puoi fare perché ci sono un sacco di possibilità hai un sacco di possibilità e oltre ai tantissimi corsi di formazione oltre a questa piattaforma oltre a il servizio che ti viene offerto hai anche la possibilità di avere a che fare con un sacco di persone che hanno già fatto la stessa strada e quindi è fondamentale che tu vada lì e chieda un consiglio un parere perché? perché ti possono aiutare a evitare di commettere degli errori che semmai ti fanno finire in quel famoso labirinto di cui ti parlavo dove poi diventa molto difficile uscirne quindi ci vediamo al prossimo video di Level Up grazie per averlo seguito e ti aspetto da Triplo Grazie per aver guardato il video